Acchiappa l'idea! Oggi vi racconto 5 cose che proprio non mi piacciono nei presepi. Bentornati amici ed amiche su questo nuovo video di Acchiappa l'idea. Oggi non realizzeremo nessun progetto specifico ma vi dico un po' 5 aspetti che personalmente non mi piacciono nei presepi. Faccio un piccolo disclaimer, un chiarimento. Queste sono le mie opinioni. Ci sta che ognuno abbia le sue opinioni e quindi sono legittime tutte le opinioni, anche le mie. Ecco, quindi io vi presento il mio punto di vista basato sulla mia esperienza e basato su quello che io personalmente penso e quello che a me personalmente piace. Alla fine di questo video però faremo un piccolo unboxing di alcuni prodotti che mi sono stati mandati e che inserirò nei prossimi video. Però non perdiamo tempo e iniziamo a vedere le 5 cose che odio nei presepi. La prima cosa è la sproporzione eccessiva. Se c'è una casina che è alta 10 cm non ci può stare di fianco una statuina alta 10 cm. Le cose vanno messe con criterio. Il secondo aspetto che secondo me è un attimo da curare spesso nei presepi è quello di mischiare eccessivamente gli stili. Se vogliamo fare un presepe moderno si fa un presepe moderno. Se vogliamo fare un presepe popolare si fa un presepe popolare. Troppi stili insieme sono un po' una cozzaglia secondo me. Poi non mi piace il cielo lucido dietro ai presepi. Il foglio, quello con le stelline gialle su sfondo azzurro fluo, personalmente non mi piace. Non mi piace soprattutto dietro a presepi popolari, presepi in stile napoletano, presepi classici diciamo. Se fossero dei presepi moderni però con uno stile coerente un fondo del genere potrebbe anche starci. Ma in un presepe classico secondo me no. Come anche non mi piace la neve. La neve nel presepe personalmente non mi piace. Anche lì, se è un presepe tutto particolare ambientato in tema alpino con tutte le casine di legno, una ricostruzione di un paese delle Alpi e c'è la neve, ok. Ma se è un presepe arabo oppure se è un presepe normale, popolare, chiamiamolo come vogliamo, la neve secondo me stona. E non mi piace assolutamente, forse è la cosa che mi dà più fastidio, sono le catene di luci appoggiate sopra al presepe. A volte con il filo che si vede ma anche solo le lampadine che si vedono e che brillano magari multicolore sparpagliate per il presepe personalmente non mi piace per niente. Se volete fare una roba con mille lucine, la neve e una cacofonia di effetti, luci, musiche eccetera, fate il villaggio di Natale. Mi viene da dire il villaggio di Natale con tutti i fetti o che costruite voi o che comprate fatti, mille lucine, la neve, più luci ci sono più è bello. Non è un problema, ma fate quello e non fate il presepe, secondo me. Cosa ne pensate di queste mie considerazioni? Qualcuno magari le dà per scontate, qualcuno pensa che sono un po' delle fisse, giusto? Nel senso ognuno ha appunto la sua opinione, se ne può discutere qua sotto nei commenti se avete voglia. Adesso vi faccio vedere il pacchetto che mi ha mandato dioramipresepi.it che è un sito specializzato, vi lascio qua sotto il link al loro sito per vedere tutti i loro prodotti e gli ho chiesto una collaborazione per la vegetazione del presepe nella radio. Quindi adesso vi faccio vedere il bellissimo scatolone che mi hanno mandato. Eccolo qui, adesso tiro fuori un po' tutto e poi vi faccio una panoramica di tutte le belle foglioline, rametti e cosine che appunto mi hanno spedito. Ecco qui, guardate quante belle cosine che mi hanno mandato, sono stati veramente molto gentili e sono i piccoli vantaggi di essere uno youtuber di presepi, cioè quelli di poter chiedere e ottenere delle bellissime collaborazioni. Quindi queste foglioline le utilizzeremo appunto nel nostro presepe nella radio che ha bisogno di una vegetazione che sia un pochino secca, come queste qui, e nella parte di sinistra dove avete visto che ho installato una specie di fonte d'acqua, una sorgente, utilizzeremo magari delle altre foglioline. Questi qua potrebbero diventare dei bellissimi rampicanti. Questi qui sono tipo dei fiorellini che potranno diventare dei fiorellini del deserto. Sono tutte cose molto molto interessanti e professionali, diciamo. Quindi se vi interessano li potete andare a trovare lì. Sempre con loro ho realizzato tempo fa il video su l'ulivo fatto con la Teloxys e la Ghostwood, il Timo, eccetera. Se vi interessa ve lo lascio linkato qua sopra e ve lo potete andare a vedere. Detto ciò, per questo video è tutto. Noi ci vediamo domenica prossima oppure in un'altra idea creativa. Ciao!